Gesù invita i suoi discepoli a non avere paura dei rischi e del prezzo sociale che si devono pagare se si segue il suo Vangelo. Quando Matteo scrive questa pagina, ha davanti le sofferenze di tanti cristiani perseguitati per non aver aderito al culto dell'imperatore Domiziano. Anche oggi però la scelta di vivere il Vangelo espone i credenti a molti rischi e paure. La paura che a causa del loro andare controcorrente la loro missione possa fallire. La paura di venire isolati dal gruppo. La paura di non farcela resistere quando c'è da subire l'insulto, la diffamazione, il dileggio, l'emarginazione. Gesù incoraggia tutti noi a non lasciarci paralizzare da queste paure. Tali prove infatti sono passeggere e non possono vanificare la realizzazione del suo progetto di salvezza. Ognuno di noi ha un valore inestimabile agli occhi di Dio Padre, che conosce perfino il numero dei nostri capelli. La consapevolezza di avere un valore non perché stimati dagli altri, ma perché amati dal Padre, che è nei cieli, ci rende capaci di sostenere ogni sorta di prove e di persecuzioni. Questa consapevolezza va costantemente nutrita e consolidata nella preghiera fiduciosa, nell'ascolto accorto della parola di Dio e in scelte concrete di vita spesa bene, come quella di Gesù, per manifestare e diffondere l'amore del Padre per la salvezza di tutti. Oggi chiediamo al Padre di farci sperimentare il suo grande amore per noi, per vincere ogni reticenza e paura. Grazie a tutti.